Presidente, grande vittoria contro il Villaliterno 3-0, un commento sulla gara e sull'approccio dei ragazzi? Una partita difficilissima, squadra fortissima, una squadra che non ti concede niente. Credo che ad oggi abbia preso pochissimi gol, anche se avevano delle assenze importanti, ma si vede che è una squadra molto molto forte, quindi la vittoria è molto molto importante, in un momento un po' particolare, che abbiamo superato brillantemente. Però è da mettere in preventivo delle partite meno brillanti, sappiamo che ci saranno anche altre partite, però bisogna poi far passare come si dice la nottata, nel modo in cui hanno fatto oggi i ragazzi, come ha fatto l'allenatore, come hanno fatto tutti dello staff, quindi faccio complimenti a tutti loro. Ci saranno anche altri momenti negativi, ma li dobbiamo affrontare sempre con serenità. Certamente noi ci reggiamo sull'entusiasmo, quindi siamo una società che ci basiamo su degli sponsor, che vede dalle mie spalle e devo ringraziare tutti loro, altrimenti l'ISCIA non esisterebbe. Quindi tutte le vittorie che facciamo noi le dedichiamo a loro, oltre ai tifosi, perché ci stanno consentendo di fare un buonissimo campionato, ci hanno consentito di fare una buonissima squadra. Stiamo aspettando lo step di dicembre dove, se c'è bisogno di qualcosa, saremo pronti a rinforzare ancora questa squadra. Noi sappiamo la forza della nostra squadra, come ho detto prima, durante l'arco di un campionato ci saranno delle prestazioni meno brillanti, e quella prestazione che abbiamo fatto fuori casa a Massa Lubrenza non è da ischia. Però ci sta, poi ci sono anche gli avversari, magari gli avversari sono in una domenica particolare, ci possono mettere sotto, pazienza, bisogna guardare avanti. Poi è arrivata la sconfitta in Coppa Italia, quindi magari si poteva pensare a una crisi, ma sono situazioni mentali dove i ragazzi sono stati veramente bravi con l'allenatore a riprendersi immediatamente, anche perché, malgrado le sconfitte, in quelle partite abbiamo visto qualcosa di positivo e poi che è emerso anche oggi. Presidente, è un campionato che si vince, un campionato di eccellenza che si vince soprattutto con gli under, gli under forti in campo, e l'ischia sta dimostrando di averne tanti e anche molto forti. Ma sono ragazzi molto bravi, però credo che sono supportati da un grande gruppo, da un grande allenatore, anche un grande direttore sportivo. Sono loro che scelgono i ragazzi, che li fanno crescere, li fanno maturare, e poi abbiamo un uomo in più, che è Franco Impagliazzo Taratà, che sta facendo un lavoro incredibile, quindi credo che ci sono tutti gli ingredienti giusti per poter fare un campionato di vertice.